Anche oggi sull'approvazione di bilancio e manovra pesa la ricerca della maggioranza di centro-sinistra, quel sedicesimo consigliere necessario per raggiungere il numero legale e scongiurare così l'avvio dell'esercizio provvisorio. Che tecnicamente spiega il Presidente della Regione Vicario Giovanni Lolli, non sarebbe un dramma ma non permetterebbe di dare risposte alle persone, ai cittadini e alle associazioni. No, ma non è un documento di bilancio impegnativo, noi non possiamo ipotecare risorse che non abbiamo, il bilancio è estremamente stretto e io intendo lasciare a chi i cittadini eleggeranno i conti in ordine. Così come siamo riusciti a tenere in ordine i conti dei fondi comunitari, altrettanto lo dobbiamo fare con il bilancio. Il Consiglio regionale è stato chiamato questa mattina ad approvare il bilancio e manovra di bilancio nell'ultimo giorno utile per evitare l'esercizio provvisorio, convocato prima per le 9 e poi più volte rinviato. Un vero e proprio fallimento del centro-sinistra, secondo i consiglieri. Sarà Marcozzi del Movimento 5 Stelle e Lorenzo Sospiri di Forza Italia. Concludono, diciamo così, in bellezza con il modus operandi che ha caratterizzato questo governo, cioè un governo sotto ricatto di partiti e partitini, di piccole liste e di mega coalizioni che questo è il risultato che portano. Cioè ogni consiglio regionale, il presidente di turno è sotto ricatto, diciamo, di qualche consigliere regionale che chiede qualcosa per presenziare al Consiglio regionale. Noi non voteremo mai la finanziaria del PD perché è una finanziaria che si forma su tre presupposti totalmente sbagliati. Non cambia la pressione fiscale, ovvero non diminuisce. Non ci sono i fondi per i comuni, per la viabilità e per le province e continua a mantenere il super ticket sulle prestazioni sociosanitarie. Sono tre temi che noi vogliamo cambiare dal 10 febbraio, non possiamo votare un provvedimento che li contiene. Grazie a tutti.